Gianfranco Zola, iniziamo da oggi, cioè dal secondo Memorial Galeazzi di Padel un'occasione per mischiare sport, passione e sociale nel ricordo di un gigante del giornalismo sportivo italiano come Galeazzi Beh, innanzitutto parliamo da Galeazzi che è una delle leggende del nostro calcio una persona che ha rappresentato tanto per molti e per me sicuramente in particolare perché comunque io sono cresciuto con le sue telecronache quando ancora ero un ragazzino e seguivo il calcio e diventavo sempre di più appassionato al calcio anche grazie a lui Passiamoci sempre sull'attualità, ovviamente il Cagliari, c'è poco da dire, un'emozione incredibile per tutta l'isola lei che è stato allenatore, capitano, goleador di questo Cagliari, le emozioni provate per... tanto ci è passato anche lei dalla B alla Serie A con la promozione No, no, mi ricordo benissimo di quell'anno là, nostro, eh, dico, siamo sediti in via fu una grandissima gioia per tutti noi, per tutta la Sardegna quindi ho in qualche modo rivissuto tutto quello che hanno vissuto i giocatori del Cagliari l'altro giorno a Bari poi il modo in cui l'hanno raggiunto, Rocambolesco, all'ultimo minuto ci ha fatto ancora appassionare di più, ecco, a questa squadra quindi sono stracontento per la società, per i giocatori e per il mister perché hanno lavorato duro e hanno recuperato una stagione che era quasi compromessa e devo dire sinceramente sono stati bravissimi Grazie 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 Grazie